appena suonate le 19 e 45 19 e 30 20 20 21 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 30 30 30 30 35 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 33 35 35 32 33 33 32 33 33 33 33 34 E' lungo, non mi sono addossato troppo indietro e quindi ho beccato una sezione del piramide un più lunga. Ecco è uscito adesso 3.32, quindi a 2.30 è uscito, è la media e questo ha un tempo invece il video, eccolo. Superiore, perché è un po' più in basso dell'occhio, andiamo non un po' più in basso, un po' più avanti e questo è quello che fa sì che sia durato di più il transito. 34 e 29, quindi a 32 e 29, 32 e 19 tenendo conto dei 10 secondi di anticipo. E' questo cronometro. Ecco qui, la posizione adiacente alla... La posizione adiacente... Qui vediamo ancora blinking della stella che passa attraverso i tiranti. Questa qua che è sempre fuori posta. Questa qui vuole sentire con il giro e il filone. Stanzio di figlio completato. Grazie. 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 Grazie.